Grazie Presidente, grazie Massimo. Visto che hai ricordato quelle sparutissime riunioni della società italiana di statistica che si tenevano a Piazza San Bernardo, a Largo San Bernardo, nell'Unione Italiana di Rassicurazioni. C'è un episodio che io ho scritto anche per Graziella Caselli, ma che adesso ho scritto visto che hai voluto partire da lì. Io mi occupai all'epoca della omogamia secondo il luogo d'origine in Italia e così adoperai un indice di Gini, un indice di omogamia di Gini e all'epoca non c'erano i calcolatori e quindi feci centinaia e centinaia di elaborazioni dell'indice di Gini con una macchinetta, una morro, il cordo all'epoca, ma il fare a mano tutto ti dava la possibilità di entrare nel meccanismo della formula e nella sua logica. E così mi accorsi che in certe situazioni particolari l'indice di Gini non funzionava bene. E così ebbi l'ardire di dirlo in una riunione della SIS in cui lui presiedeva e gli dissi che chiaramente, papale papale, che l'indice di Gini in certe situazioni non funzionava e come potete immaginare la sua reazione non fu delle più blande e anzi fu inviperito, diciamolo chiaramente, e mi disse che quelli non erano difetti dell'indice ma erano caratteristiche dell'indice. E forse aveva per certi versi ragioni. E così quando usci da quella seduta della SIS un pochino travagliata, molti colleghi mi dissero che il mio destino era segnato. scientificamente non avrei mai potuto fare alcun che di buono e che era bene che mi fermassi lì. Non mi sono fermato lì e devo dire che l'influsso di Gini nella mia vita professionale accademica è stato del tutto positivo e quindi va bene così. Allora, mi è stata data una relazione complessa, il contributo di Gini nella demografia e nelle scienze sociali. E quindi non è retorica affermare che fare riferimento un tempo assai breve, abbiamo pochi minuti, quali quelli che oggi abbiamo a disposizione, all'opera di Corrado Gini nel campo della demografia e delle scienze sociali e compito quasi impossibile. Mi limiterò perciò a qualche ragguaglio non sistematico. Fra l'altro questi ragguagli sistematici compariranno certamente nella relazione di Graziella Caselli che sta lavorando intensamente su questo tema. E dicevo, mi limiterò a qualche ragguaglio non sistematico che possa mettere in luce elementi del suo pensiere e delle sue opere, su cui peraltro esiste già una letteratura assai vasta e approfondita, cominciando dai due ampi saggi che sul tema ha scritto Nora Federici. Sua allieva, demografa e a sua volta maestra mia e direttamente o indirettamente di numerosi miei coetani e dei nostri allievi. E poi ampi riferimenti si trovano in numerosi saggi e monografie apparsi negli ultimi anni, compreso uno molto ampio e ricco di Giorgi a cui rivolgo un saluto particolarmente affettuoso. Qui io mi riferirò in particolare a due opere che per la tematica che mi è stata affidata mi sembrano particolarmente significative. La prima per la parte demografica e la raccolta di saggi apparsa nel 30 dal titolo Nascita, Evoluzione e Morte delle Nazioni e dal sottotitolo La teoria ciclica della popolazione e i vari sistemi di politica demografica. L'altra, per la parte sociale, sono le dispense appunti di sociologia. Sono grato a Gianni Sgritta che via Graziella Caselli mi ha fatto vedere questi appunti di sociologia raccolti alle sue lezioni nella Facoltà di Scienze e Statistiche. E quindi non farò riferimento specifico agli innumerevoli contributi che nell'uno e nell'altro campo Gini produsse e che derivavano dalla incredibile, anzi stupefacente capacità che aveva di vedere i singoli problemi, di immaginare, raccogliere e organizzare i dati che empiricamente potevano portare alla loro analisi e soluzione, di stabilire i collegamenti con le più varie discipline che con quei problemi avevano una qualche attinenza, per passare poi alla formulazione di una teoria che ne fornisse l'inquadramento e la cornice teorica. Un esempio di queste due grandi capacità relative a un singolo problema biologico, sociale e demografico che mi pare significativo e che mi ha sempre affascinato per l'architettura logica e l'uso induttivo-deduttivo di dati correnti è quello della fecondabilità, cioè della misura della probabilità per una donna di essere fecondata, ma gli esempi potrebbero essere innumerevoli. Quanto invece al più ampio contesto disciplinare e interdisciplinare ci da dire che della demografia egli aveva una visione riduttiva, nel senso che la vedeva basata solo su dati aggregati. Ad essa pertanto attribuiva il compito di analizzare e studiare stato e movimento della popolazione, mentre la visione e la trattazione ampissime e comprensive di tutti gli aspetti della popolazione venivano da lui affidati al CISP, Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popolazione, che istituì negli anni 30 e a lui è sopravvissuto fino agli anni 90. Nel CISP lui conduceva le più varie, ardite e innovative per molti versi indagini sui comportamenti di individui e di popolazioni nelle più svariate parti del mondo. Netta quindi era la sua distinzione tra demografia e studio della popolazione. Ma questo non era solo l'approccio gineano, era anche l'approccio internazionale, tanto che quando alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento furono istituiti le grandi società scientifiche del nostro settore, venne creata per la statistica l'International Statistical Institute, mentre in campo demografico venne creata l'Unione Internazionale per lo studio scientifico della popolazione, che peraltro noi demografi di tutto il mondo consideriamo la nostra casa madre di associazione scientifica in campo internazionale. Negli appunti di sociologia si trova scritto un'altra scienza, cito, la quale presenta strette relazioni con la sociologia e la demografia, che è etnologicamente pressoché identica ad etnografia e in un primo tempo le due parole furono usate indifferentemente. Solo in seguito venne delimitato il rispettivo campo di studi delle due discipline. Queste differiscono anche per il metodo che essenzialmente è quantitativo per la demografia e prevalentemente qualitativo per l'etnografia. Quanto poi ai rapporti fra demografia e sociologia, notiamo, sto sempre citando, notiamo che la demografia è lo studio statistico dello Stato e del movimento della popolazione. Essa però li studia prescindendo dalla loro portata sociale. Quando invece si studiano le regolarità demografiche, per esempio il diverso crescimento delle classi sociali in vista della loro portata sociale, si fa della sociologia demografica. Fine della citazione. ma che quindi la sua idea era quella di mettere in relazione le regolarità riscontrate dalla demografia con quelle trovate da altre scienze sociali, sia biologiche sia economiche, ma che avesse una visione ampissima delle relazioni fra le varie scienze sociali fuori di ogni dubbio. E infatti afferma, pagina 34, che la teoria che un solo fattore debba spiegare tutto, in realtà non è mai esistita nella scienza. della demografia quindi aveva, come dicevo, una concezione piuttosto riduttiva. Posso sottolineare che questa visione riduttiva è ancora quella che è nella testa e nella mente di molti studiosi di scienze naturali e sociali, del tutto diversa da quella assai ampia e comprensiva di Nora Federici, che nella demografia inglobava tutti gli aspetti biologici e sociali e le loro interrelazioni che attengono alla popolazione. E visione che Nora Federici ha trasmessa ai suoi allievi e che tutti hanno cercato di portare avanti. E visione che prende le mosse da quelle di Rodolfo Benini e dei suoi principi di demografia del 1901 e poi anche da quella di Nicola Colaianni e del suo ampio trattato manuale di demografia del 1904 e quella di Livio Libi nei suoi due volumi del trattato di demografia del 1942, visione ripresa anche nel manuale e nei lavori di suo figlio Massimo Livi Bacci, eminente demografo egli stesso. Non a caso finché in cattedra Gini non venne bandito nessun concorso a cattedra per la demografia. La qualcosa avvenne solo nel 1962 per favorire finalmente la disciplina, ma ancora più Nora Federici che non aveva mai voluto accettare la proposta più volte e da varie sedi formulata di bandire per lei un concorso a cattedra in istatistica. Gini invece, nelle sue innemorevoli ricerche per il più ampio studio dei problemi della popolazione, aveva assegnato il compito, come si diceva, non alla demografia accademica ma al CISP, al Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popolazione, un organismo privato che diresse fine alla morte e che aggregato all'Università Sapienza gli sopravvisse per molti anni. Al CISP furono affidate, ad esempio, le ricerche sulle colonie allogene del nostro Paese, fra le quali quelle sulle colonie alpenesi in Italia meridionali. Indagini particolarmente interessanti anche sul piano del metodo, considerate che esse non venivano condotte solo sulla collettività ma anche su singoli individui e famiglie. Una strada, quest'ultima, che fu riscoperta dai demografi della Scuola Demografica Francese, solo molti anni dopo, a proposito delle indagini di demografia storica. Lo scopo principale nei propositi del nostro era quello di analizzare e possibilmente distinguere e misurare il contributo delle doti ereditarie e di quelle ambientali nelle persone e nei loro comportamenti, nei singoli contesti nazionali e nel contesto internazionale. Cioè di quanto vi fosse di biologico e quanto di sociale e quanto il tutto fosse collegato e collegabile all'economia. Le analisi e la inesauribile cultura giniana si basavano sulla ricchissima biblioteca alimentata da un'incredibile fitte e stessa rete di scambi internazionali evoluti e alimentati da Gini stessi nella quale compariva tutto o quasi fosse collegabile alla popolazione. Biblioteca che è poi passata a quello che era allora il Dipartimento di Scienze Demografiche della Sapienza. Parlando dei nessi tra evoluzione demografica ed evoluzione economica nelle nazioni, nel 1928 a Torino, Gini distingue quattro stadi dell'evoluzione demografica connessi con una diversa psicologia dei genitori dal punto di vista della produzione e dell'isparmio, corrispondenti anche a un'evoluzione nella forza degli istinti riproduttivi. Vale la pena di riportare tutto il ragionamento di Gini. Cito, via cioè un primo stadio in cui la forza degli istinti è tale che anche le classi maggiormente ambienti danno ad essi libero sfogo, senza riflettere alla riduzione della quota ereditaria che da un'abbondante prolificazione verrà a ciascun figlio. È lo stadio che si verifica in molti paesi nuovi all'inizio dell'immigrazione e che si è verificato anche in alcuni paesi d'Europa durante l'epoca della massima fioritura industriale. In un secondo stadio l'istinto riproduttivo non è più così forte da far sì che i genitori prescindano dalla condizione più o meno vantaggiosa i cui figli verranno a trovarsi a secondo del loro numero più o meno limitare. Mentre l'istinto della procreazione ha ancora la sua piena attuazione nelle classi nullatenenti. È questo lo stadio che si è verificato nella gran parte dei paesi d'Europa durante l'ultima parte del secolo scorso e nei primi anni del nostro. In un terzo stadio in cui già da tempo è entrata la Francia, seguita ormai dopo la guerra da una buona parte dei paesi europei, l'istinto della riproduzione sembra così innebolito da cedere non solo di fronte alle considerazioni di tornaconto familiare ma anche di fronte dando luogo a una tendenza di limitare la prola anche da parte delle classi basse e togliendo con ciò uno stimolo importante alla produzione e all'accumulazione delle ricchezze. È molto bello questo ragionamento perché mette insieme l'aspettativa e il comportamento individuale delle famiglie al comportamento dell'intera nazione. In questa continua e dinamica è una contrapposizione fra istinto riproduttivo individuale di coppie e di classe sociale che in una certa misura ha una più o meno grande capacità di autoregolazione in funzione del ciclo di vita dell'individuo e della coppia e che costituisce scelta razionale dettata dai più vari motivi, sta in meccanismo che in buona sostanza regola la nascita, l'evoluzione e la morte delle famiglie, delle classi sociali e della nazione. E così Gini si preoccupa delle calore delle nascite e quindi del progressivo invecchiamento di una popolazione anche nella prospettiva della possibile scomparsa di una popolazione. Si parvaliget sul contenuto di quest'ultima affermazione, mi ritrovo così come ho scritto varie volte nei miei lavori d'accordo perché in alcuni casi la denatalità è così forte, è prolungata da contribuire a provocare un invecchiamento intensissimo e veloce e quindi una sua involuzione senza che essa abbia più la capacità endogena di reagire e sopravvivere. Si può arrivare nella struttura di una popolazione a una tale deformazione da oltrepassare un punto di non ritorno dell'evoluzione demografica. Questo punto di non ritorno fu citato da Re Baldovino in una riunione in cui eravamo presenti Massimo e Dio e mi restò nella testa la domanda di Re Baldovino se esisteva un punto di non ritorno. E così poi mi sono messo a lavorare e ho scritto qualche lavoro anche su questo tema. Insomma, così come ci si preoccupa giustamente di proteggere le specie animali, mi pare giusto che ci si preoccupi di proteggere a tutti i livelli, dall'UNESCO in giù, fino ai singoli cittadini, le culture dell'umanità. Nell'ambito della monumentale produzione scientifica di Gini viene sempre doverosamente ricordata la visione organicista della società, basata su un'analogia tra organismo vivente e società, entrambi caratterizzati dal susseguirsi della giovinezza, della maturità e della vecchiaia. Egli delineò tale teoria nell'ambito del corso di patologia economica tenuto nel 23-24 all'Università Bocconi. Un'esposizione più formale della tematica venne effettuata nel 27 con il saggio del neo-organicismo e successivamente ripresa, approfondita e sviluppata nel corso di un ventennio che si concluse con la quinta edizione del 1952 del trattato di patologia economica pubblicato per i tipi dell'UTET. Mentre la concezione meccanica paragonata la società a un sistema inorganico, quella organica concepisce la società come un organismo per il quale Gini ha messo in luce quella che è una caratteristica esclusiva, cioè la facoltà di auto-riequilibrazione. Quando forze perturbatrici rompono l'equilibrio, l'organismo ha la tendenza a ristabilire attraverso stati patologici l'equilibrio primitivo, reazione che non si verifica per i sistemi inorganici. Però bisogna osservare che questa facoltà di conservazione di ripristina si manifesta solo incompletamente, perché in realtà, dice, l'organismo in un certo senso muta ed evolge, sicché, analizzando le relazioni tra le specie viventi, Gini arriva ad avere una piena concezione ecologica, una concezione veramente antelitteram, che certo non era diffusa, né era patrimonio di molti studiosi. Quindi, come hanno rilevato prima Federici e poi Giorgi, secondo Gini la differenza tra il neorganicismo e il vecchio indirizzo organicista stava nel fatto che il primo si fondava su analigie sostanziali aventi valore euristico, mentre il secondo su analigie incidentali aventi valore descrittivo. La teoria gineana configura infatti un'analogia tra organismi e società che non considera un parallelismo puramente formale, ma che riscontra nelle collettività economico-sociali la presenza e l'azione di fattori intrinseci che consentono, attraverso meccanismi analoghi a quelli che agiscono nell'organismo biologico, di mantenere l'equilibrio organico o di restaurarlo, nel caso esso venga compromesso, attraverso meccanismi di autoconservazione, di autoregolazione dello sviluppo e infine di autoriequilibrazione. E infatti, quando la limitazione delle nascite si diffonde in categorie sempre più basse della popolazione, la compaggine sociale si avvierebbe all'implosione se non intervenissero a evitarla, come si ricordava a fattori esterni, quale l'immigrazione interna o dall'estero. A queste diverse fasi del ciclo demografico-sociale corrisponderebbe anche un'alternanza di forme di governo autocratiche e democratiche. Il ritorno all'autocrazia sarebbe determinato dalla reazione contro l'eccesivo frazionamento del potere che tende a verificarsi in regime di libera concorrenza. Quanto salto alcuni brani, chi fosse interessato può richiedermi il testo completo. Quanto agli aspetti politici della sua vita, molto è stato scritto, rimproverandogli di essere stato molto vicino e perfino propugnatore del fascismo. Ma a parte il processo cui per questo fu sottoposto dopo la guerra e dal quale ne uscì bene, tanto da essere pienamente reintegrato nella vita accademica, compresa l'ammissione a questa accademia, ma considerato quanto al riguardo compare nei suoi appunti di sociologia, e cioè che dice, cito, il Gunther, professore dell'Università di Iena, depreca la progressiva sparizione della razza nordica e invoca l'opera del legislatore a protezione di essa, che sarebbe la migliore razza d'Europa. Questa teoria, scrive, benché abbia avuto grande successo essendo stata messa al servizio di interessi politici, deve essere considerata fondamentalmente errata. E quindi, più che mai, si può concordare con le conclusioni di Giuseppe Leti, e cioè che è chiaro che gli aderì agli indirizzi generali del fascismo, ma fu fascista un po' particolare, perché era troppo intelligente e spirito libero per assecondare molte delle idee che il regime cercava di imporre. E così, per gli stretti rapporti con Mussolini, durante la presidenza dell'Istat, non furono, gli stretti rapporti con Mussolini, a ferma Leti, non furono mai caratterizzati da un atteggiamento sottomesso. Corrado Gini era certamente onnivoro nelle letture. Doveva avere una smisurata, inappagata e forse inappagabile cupiditas no scendi. Doveva avere una memoria mostruosa, era straordinariamente acuto nelle connessioni e nei collegamenti interdisciplinari, sempre attento a comprovare con i dati o con la logica, quello che affermava. Era assolutamente enciclopedico e quindi, per esempio, nei sei appunti di sociologia si parla dell'influenza diretta sulle caratteristiche fisiche degli individui esercitata dalla presenza dell'ozono sull'area, mentre poi, più avanti, parlando della guerra, dice che sia un avvicinamento della sua teoria a quella basata sull'istinto di distruzione di Freud. Una ultima testimonianza di questa sua assolutamente straordinaria e ampissima personalità scientifica è nelle cinque recensioni che aveva predisposto prima di morire e che compaiono postume in un numero nel volume di Genus del 1966. Le cinque recensioni sono 1. L'econometria al servizio dell'impresa 2. L'allevamento di una giovane scimmia 3. Un'introduzione alla logica simbolica 4. La classificazione e l'evoluzione dell'uomo 5. Un'analisi dei lavori dell'economista austriaco-americano Ludwig von Mises Coraggio Gini autoritario nell'attività scientifica e per quel che ne veniva detta autoritario nella vita in alcuni casi personalmente avversato in qualche caso addirittura non tollerato ma in tutti i casi scientificamente rispettato. Mi sembra di poter concludere che ahimè comunque la sua figura vada ineluttabilmente sbiadendo nel tempo considerato che per esempio nell'enciclopedia di Repubblica pubblicata nel 2002 e curata dall'Utet l'editore della sua patologia economica la voce Gini firmata peraltro da una eminente studiosa e a sei breve si compone di 22 righe mentre per fare un solo riferimento un lemma che compare nella stessa pagina e relativo all'artista Arnaldo Ginn si compone di 36 righe ma noi siamo qui doverosamente a celebrare abbiamo questa bellissima foto a celebrare l'opera e il nome del nostro peraltro ricordato in tutto il mondo quotidianamente dal suo indice di disuguaglianza che gli ha assicurato finora una perenne e ricorrente memoria e a me piace pensare che la scritta grandi lettere che compare sul retro dell'edificio dell'Istat si è vista prima una foto di Giorgio dell'Istat sul retro c'è una grande scritta che dice numerus observa in rerum natura nihil fortuitum e mi piace di immaginare che questo osserva i numeri perché niente nella natura è fortuito così come la scritta che compare nell'aula magna dell'Istat siano state poste non su ispirazione dell'architetto ma su precisa volontà di Corrado Gini vi ringrazio grazie grazie